Donazioni online di un euro per acquistare un defibrillatore da mettere a disposizione della comunità. Parte ancora una volta da Praia Mare, un'iniziativa provocatoria per sopperire alle carenze della sanità locale nella dotazione di presidi per il pronto soccorso. A lanciarla in qualità di semplice cittadino è Nichi Pecora, già componente del Comitato in difesa dell'ospedale di Praia Mare, volontario della Croce Rossa italiana. Una raccolta fondi, una donazione di un euro e solo esclusivamente un euro, in modo da raccogliere l'importo necessario per donare alla città di Praia Mare di un defibrillatore completamente automatico da posizionare nel centro più strategico della città. Girando su internet ho scoperto che esiste un'azienda che sta facendo dei prezzi veramente stracciati per far fare l'acquisto alle società sportive di calcio di defibrillatori completamente automatici e il costo si aggirava intorno ai 1300 euro. Ho guardato i miei contatti, realmente su Facebook ci sono quasi 2000 contatti, se anche uno a contatto donasse un euro arriverei a raccogliere 2000 euro che significerebbe che ci sarebbero almeno due defibrillatori da donare poi alla città. Quali sono allora le modalità attraverso le quali i cittadini che sarebbero interessati a questa iniziativa possono dunque donare questo euro? L'iniziativa si svolge completamente online in modo da avere la massima trasparenza possibile. C'è un sito che è donaneuro.eventbrite.it e basta collegarsi all'indirizzo di questo sito si può acquistare solo e esclusivamente un biglietto. La spesa reale sarà di 1,78 euro di cui 1 euro per la relazione e 7,78 euro per il gestore del sito ma volutamente l'ho impostata in questo modo, in modo che sia realmente 1 euro e un solo euro evitando così di comprare tutti e 2.000 biglietti da qualcuno, no, no, tutti devono avere la possibilità a 1 euro realmente di contribuire a quest'azione. La campagna si conclude il 4 aprile, non è una data scelta a caso, è il giorno del mio compleanno. Mi augurerei praticamente che a quella data siamo riusciti a raccogliere, sono riusciti a raccogliere così questa somma da parte dei 2.000 partecipanti a questa iniziativa per poi acquistare il defibrillatore e donare la città di Praia a mare.